Ciao a tutti e benvenuti alla sessione numero 9 del 27 gennaio 1981. Io sono Ra. Vi saluto nell'amore e nella luce del nostro infinito creatore. Ora comunichiamo. Intervistatore, siamo assolutamente decisi a far sì che la legge dell'uno sia la componente principale di questo libro. Chiedo scusa per essermi fatto sviare su questi argomenti. Ci troviamo nella posizione di chissà, diciamo così, sondando il terreno per capire quale direzione intraprendere per iniziare il libro. Per questo motivo ho posto alcune domande e probabilmente porrò delle altre nella prima parte di queste sessioni che non avranno molto senso riguardo all'applicazione della legge dell'uno per via della mia ignoranza riguardo a quello che sto facendo. Comunque mi aspetto di acquisire velocemente una maggiore padronanza man mano che procediamo. Ci sono un paio di domande che probabilmente non avranno senso, ma che vorrei porre per togliermi il pensiero. Stanno occupando la mia mente da un po'. Potresti suggerirci un editore per questo libro? Io sono Ra. No. Intervistatore, potresti dirci qualcosa sulle nostre incarnazioni precedenti, sulle nostre esperienze passate prima dell'attuale incarnazione? Io sono Ra. Possiamo farlo, tuttavia informazioni come queste sono attentamente protette dalla totalità dell'essere mente corpo-spirito per far sì che le vostre attuali esperienze nello spazio-tempo non vengono attenuate. Fateci fare un'analisi per trovare del materiale che sia innocuo per la vostra esistenza. Nella mia distorsione di desiderio verso la vostra libertà, da preconcetti, sono in grado di parlare solo in termini generali. Questo gruppo ha lavorato e vissuto insieme diverse volte. Le relazioni sono variate. È presente un karma, come voi lo chiamate, bilanciato. Infatti ognuno di voi ha fatto da insegnante a ciascuno degli altri. Il lavoro ha riguardato la guarigione, la comprensione degli utilizzi dell'energia terrestre e l'opera di assistenza alle civiltà che hanno chiamato. Esattamente nello stesso modo in cui la vostra sfera ci ha chiamati e noi siamo giunti. Questo conclude il materiale che consideriamo innocuo. Intervistatore Gli esercizi di guarigione che ci avete fornito sono di natura tale che sarà meglio concentrarci su un particolare esercizio alla volta. Vorrei chiedere su quale esercizio mi dovrei concentrare a questo punto, magari un piccolo cambio di esercizio. Dovrei concentrarmi e non è udibile dopo chiude la domanda. Questa sera Io sono Ra, di nuovo. Indirizzare il vostro giudizio sarebbe un'intrusione nella vostra distorsione del continuum di spazio-tempo chiamata futuro. Parlare del passato, del presente all'inizio dei nostri limiti di distorsione e giudizio è accettabile. guidarvi anziché insegnare e imparare non è accettabile secondo le nostre distorsioni riguardanti insegnamento-apprendimento. Invece possiamo suggerirvi un metodo nel quale ognuno di voi sceglie il primo fra gli esercizi che vi abbiamo fornito, in base all'ordine in cui ve li abbiamo presentati, che secondo il vostro discernimento sentite che non è stato completamente compreso dal vostro complesso mente-corpo-spirito. Questa è la scelta appropriata. Costruire a partire dalle fondamenta, assicurandosi che il terreno sia adatto per la costruzione. Abbiamo fatto una stima dell'intensità di questo vostro sforzo in termini di energia impiegata. Tenete questo a mente e siate pazienti, perché non vi abbiamo dato un programma di apprendimento e insegnamento della coscienza semplice o di breve durata. Intervistatore Quello che mi sembra di aver compreso riguardo al processo di evoluzione di una popolazione planetaria e una popolazione ha una certa quantità di tempo per essere promossa. Questo periodo è generalmente diviso in tre cicli di 25.000 anni. Alla fine dei 75.000 anni il pianeta promuove se stesso. Che cosa determina questa situazione? La precisione degli anni 25.000, eccetera. Cos'è che ha messo in moto tutto questo? Io sono Ra. Ti prego di visualizzare quella particolare energia che, fluendo verso l'esterno e ritirandosi verso l'interno, ha formato il minuscolo reame della creazione governata dal vostro consiglio di Saturno. Continua a osservare il ritmo di questo processo. Il flusso vivente crea un ritmo che è inelutabile quanto quello dei vostri orologi. Ognuna delle vostre entità planetarie ha iniziato il primo ciclo quando le condizioni energetiche erano in grado, in quell'ambiente, di sostenere tale esperienza di mente e corpo. Così, ciascuna delle vostre entità planetarie è caratterizzata da una diversa tabella di marcia ciclica, come voi potreste chiamarla. La tempistica di tali cicli è una misura pari ad una porzione dell'energia intelligente. Questa energia intelligente offre una sorta di orologio. I cicli si muovono con la stessa precisione dell'orologio allo scoccare dell'ora. Pertanto, il portale dell'energia intelligente all'infinito intelligente si apre allo scoccare dell'ora. A prescindere dalle circostanze Intervistatore Le entità primordiali, le prime ad essere presenti su questo pianeta, quale era la loro origine? Dove si trovavano prima di arrivare su questo pianeta? Io sono Ra. Le prime entità su questo pianeta sono state acqua, fuoco, aria e terra. Le altre... Intervistatore Le persone che sono presenti qui ora, le prime persone, come noi, da dove provengono? Come si sono evolute? Io sono Ra. Stai parlando dell'esperienza di terza densità. I primi fra quelli che sono giunti qui sono stati trasferiti da un altro pianeta del vostro sistema solare che voi chiamate il pianeta rosso, Marte. L'ambiente di questo pianeta era diventato inospitale per gli esseri di terza densità, quindi le prime entità appartenevano a questa razza ed erano state in una certa misura manipolate da quelli che erano guardiani a quell'epoca. Intervistatore, di che razza si tratta e come sono giunti qui da Marte? Io sono Ra. Quella razza è il risultato della combinazione fra il complessi mente e corpo-spirito delle entità del vostro cosiddetta pianeta rosso ed una accurata serie di aggiustamenti genetici che sono stati effettuati dai guardiani di quell'epoca. Queste entità sono arrivate o sono state preservate per l'esperienza sulla vostra sfera attraverso una nascita che non è di tipo riproduttivo, ma che consiste piuttosto nella preparazione del materiale genetico per l'incarnazione dei complessi mente e corpo-spirito di quelle entità che provenivano dal pianeta rosso. Intervistatore, quindi state dicendo che i guardiani hanno trasferito qui quella razza dopo che essa era morta su Marte dal punto di vista fisico, esatto? Io sono Ra. È esatto. Intervistatore, ovviamente i guardiani nel far questo stavano agendo con una conoscenza della legge dell'Uno. Puoi spiegarmi l'applicazione della legge dell'Uno in questo processo? Io sono Ra. La legge dell'Uno viene indicata da questi guardiani come il porre e la saggezza dei guardiani in contatto con le entità del pianeta rosso, mescolando il complesso di memoria sociale della razza dei guardiani con la razza del pianeta rosso. Tuttavia fu necessaria una crescente quantità di distorsione nell'applicazione della legge dell'Uno. secondo il punto di vista di altri guardiani ed è a partire da quest'azione iniziale che è stata istituita la quarantena di questo pianeta perché si ritiene che era stato violato il libero arbitrio delle entità del pianeta rosso. Intervistatore, le entità del pianeta rosso stavano seguendo la legge dell'Uno prima di lasciare il pianeta rosso? Io sono Ra. Le entità del pianeta rosso stavano cercando di imparare le leggi dell'amore che costituiscono una delle distorsioni primarie della legge dell'Uno. Tuttavia la tendenza di questo popolo verso le azioni bellicose determinò delle difficoltà tali all'ambiente atmosferico del loro pianeta da far sì che esso divenisse inospitale per l'esperienza di terza densità prima della conclusione del suo ciclo. Pertanto le entità del pianeta rosso non vennero raccolte e continuarono a cercare di apprendere la legge dell'amore nella vostra illusione. Intervistatore, quanto tempo fa è avvenuto questo trasferimento dal pianeta rosso alla Terra? Io sono Ra. Nel vostro tempo questo trasferimento è avvenuto circa 7500, 75.000 anni fa. Intervistatore, 75.000 anni fa? Io sono Ra. È esatto, all'incirca. Intervistatore, su questo pianeta erano presenti delle entità nella stessa forma che ho io ora? Due braccia, due gambe, prima che avvenissero questo trasferimento? Io sono Ra. Sulla vostra sfera ci sono stati in più occasioni dei visitatori nei ultimi 4 milioni dei vostri anni all'incirca. Questi visitatori non hanno influenzato la progressione del ciclo della vostra sfera planetaria. Essa non era di terza densità nel suo ambiente fino al periodo menzionato in precedenza. Intervistatore, quindi erano presenti delle entità di seconda densità qui, prima di circa 75.000 anni fa. Che tipo di entità erano? Io sono Ra. La seconda densità è la densità della vita delle piante superiori e della vita animale, che esiste senza la spinta ascendente verso l'infinito. Questi esseri di seconda densità appartengono ad un'attava di coscienza, proprio come voi trovate diversi orientamenti di coscienza fra le entità coscienti appartenenti alla vostra vibrazione. Intervistatore, qualcuno di queste entità di seconda densità avevano un aspetto simile al nostro? Due braccia, due gambe, una testa e la deambulazione su due piedi in posizione retta? Io sono Ra e due livelli più elevati dei livelli sub-vibratori degli esseri di seconda densità erano caratterizzati dalla configurazione bipede, come hai menzionato. Tuttavia il movimento in posizione retta che voi sperimentate non era totalmente presente in questi esseri, che avevano la tendenza a rimanere inclinati in avanti, abbandonando a stretto la posizione quadrupede. Intervistatore, da dove provenivano questi esseri? Sono stati un prodotto dell'evoluzione, come dicono i nostri scienziati? Si sono evoluti dal materiale originario della Terra di cui avete parlato? Io sono Ra, è esatto. Questi esseri si evolvono poi dalla seconda densità alla terza densità. Io sono Ra, è esatto, sebbene non sia possibile sapere con certezza il numero di cicli che saranno necessari ad un'entità per apprendere le lezioni della coscienza di sé, che sono il prerequisito per la trasmissione in terza densità. Intervistatore, Esiste in questo momento qualche particolare gruppo di persone sul nostro pianeta che si sono incarnate qui dalla seconda densità? Io sono Ra, in questo momento non sono presenti complessi di coscienza di seconda densità sulla vostra sfera, tuttavia ci sono due gruppi che utilizzano la forma di seconda densità, uno è quello delle entità della sfera planetaria, che voi chiamate Maldek. Queste entità stanno lavorando sui loro complessi di comprensione attraverso una serie di quelle che voi chiamereste restituzioni karmiche, esse vivono nei vostri paesaggi sotterranei, più profondi e sono a voi noti come Bigfoot. L'altro gruppo è quello a cui è stato offerto una dimora in questa densità dai guardiani, che desiderano fornire complessamente corpo-spirito di quelli che si trovano ora in questa densità dei veicoli fisici adatti come voi chiamereste questi complessi chimici, nel caso in cui dovesse scoppiare quella che voi chiamate guerra nucleare. Intervistatore, non ho capito a cosa servono questi veicoli o esseri e in che senso essi sarebbero adatti in caso di guerra nucleare. Io sono Ra. Ci sono esseri che esistono in qualità di esseri istintuali di seconda densità che vengono tenuti come riserve per poter formare quello che voi chiamereste un pool genetico nel caso in cui tale complessi corporei fossero necessari. Questi complessi corporei sono notevolmente in grado di sopportare la severità delle radiazioni che i complessi corporei nei quali ora vivete non sarebbe in grado di affrontare. Intervistatore, dove si trovano questi complessi corporei? Io sono Ra. Questi complessi corporei del secondo tipo dimorano in foreste profonde e disabitate. Ce ne sono molti in diversi luoghi sulla superficie del vostro pianeta. Intervistatore, sono creature di tipo Bigfoot? Io sono Ra. È esatto. Sebbene noi non le chiameremo Bigfoot, essendo rare e molto brave a sfuggire a qualsiasi rivelazione. Il primo tipo di Bigfoot è quello che è meno in grado di essere consapevole della vicinanza di altri complessi mente corpo-spirito, ma questi esseri sono tuttavia molto bravi a sfuggire grazie alle loro conoscenze tecnologiche acquisite prima di incarnarsi qui. Queste entità dagli occhi lucicanti sono quelle che risultano più familiari alla vostra popolazione. Intervistatore, quindi esistono due diversi tipi di Bigfoot, è esatto? Io sono Ra. Questa sarà l'ultima domanda. Esistono tre tipi di Bigfoot. Se accetti l'utilizzo di questo complesso sonoro-vibratorio per tre tipi di complessi mente corpo-spirito così differenti, i primi due li abbiamo già descritti, il terzo è una forma pensiero. Intervistatore, abbiamo previsto di fare una seconda sessione più tardi oggi, se lo strumento ne è in grado, e vorrei chiedere, suppongo che questo sia possibile, e vorrei anche chiedere se c'è qualcosa che possiamo fare per aumentare il benessere dello strumento. Io sono Ra. Questo strumento avrà bisogno di alcuni aggiustamenti nelle parti delicati del suo complesso corporeo. Le distorsioni sono causate dal blocco del centro energetico che voi chiameresti pineale. Vi lascio nell'amore e nella luce dell'uno infinito creatore. Andate avanti dunque, rallegrandovi nel potere e nella pace dell'uno creatore. Adonai. E qui finisce questa nonna sessione. Prima di concludere questa sessione, volevo farvi notare che Ra ci ha appunto detto che sul nostro pianeta tuttora ci sono queste entità provenienti da diversi altri pianeti che sono state trasferite qua, prima di tutto quelle del pianeta rosso, e cioè di Marte, che appunto, come diceva Ra, loro erano dedicate alla guerra, quindi hanno distrutto la loro sfera, nel senso che hanno distrutto la possibilità di vivere lì, appunto per il fatto di aver fatto queste continue guerre. E quindi sono stati, come avete sentito, modificati geneticamente. Ecco perché la Terra è stata messa in quarantena, perché è stato violato il loro libero arbitrio. E ci stava appunto spiegando che ci sono altri tre tipi di entità. Due, che alcune entità che vivono appunto nelle viscere della Terra, altre entità che vivono nelle foreste, che le chiamano anche Bigfoot, cioè il piede grande, e alcune entità che sono forma pensiero. E adesso vediamo cosa ci racconta nella decima sessione. Io mi fermo qui e vi aspetto con la decima sessione. Ciao a tutti e grazie della vostra compagnia.